Bentornati a tutti ragazzi, spero ci riusciate a sentire bene perché alle mie spalle c'è un po' di casino per la strada, però perché siamo in questa circostanza? Perché là in fondo, è esattamente lì, siamo appena andati a prendere della roba buonissima da mangiare, super tipica e in teoria super casereccia. E questo è un vero street food secondo me. A parte che sei in strada lo puoi mangiare o in strada o a casa tua. Qui fanno solo per asporto. Esatto, però davvero tanta roba anche per un pranzo così un po' alla cavolo spettacolare. C'è ragazzi preparati, abbiamo preso tre confezioni bellissime con anche forchette tutto incluso. Io inizierei a far vedere. Allora il primo sono delle polpette. Che odore! Mamma è arrivato fin qua. Sono delle polpette con le verdure, un bel po' di verdure. Tanta roba ragazzi da vedere sul banco erano bellissime e anche qua l'odore che esce. Ma anche le verdure c'è, si vede che è roba fatta in caldo secondo me. Guarda il sugo, ma vabbè, spaziale. Ma quanto è pieno ragazzi! Infatti l'ho visto quando l'ha chiuso. Devi proprio... ma quanto è caldo, aiuto! Lo so che siamo italiani quindi queste cose le mangiamo sempre, però era troppo bella da vedere. Questa era davvero bella. Formaggio, ragù. E indovinate quanto costa un piatto così che saranno comunque un etto, almeno un etto lo è. 3,90 euro. Eh sì, ragazzi. Ma quanto è buono? Poi col formaggino tutto sciolto. E' vero, c'era anche il formaggino. Il pezzo è forte, ragazzi. E' un po' speziato, però wow. Pezzo di carne, non so che carne sia. Ah, il guancia, questa qua. La guancia, non ho capito di cosa, però la guancia. Con le patate e cipolle. Anche questo qua mi sembra 5,60 euro. Sì, perché ragazzi, in totale dovete sapere che abbiamo speso circa 14 euro, quindi davvero top. E' molto speziato, senti? E' buono, buono. No, davvero super gentile anche la signora in tutto, veramente. Assaggiamo. Non dare con la pasta che è la più semplice. Mamma mia, ragazzi, andate a capire. E' un po' stracotta. Vabbè. Ragazzi, davvero è buonissima, cremosa, si sente benissimo il gusto della carne, del manzo, perché secondo me è manzo. Sembra quasi un ragù bolognese, ve lo giuro, è buonissimo. Assaggia la carne. Carne super super tenera e anche la pasta comunque è buona, il suo mi piace. E' un po' scotta, però è anche il suo buono. Quindi ci sta, mi piace davvero tantissimo come pasta. Poi c'è anche il formaggino che si fa sentire, non è male. Approvatissimo, mamma mia. Per 3,50 euro. Ragazzi, venite. C'è una festa da mezzogiorno alle quattro, però una tappa dovete farla. Fanno anche i porcenti piccole. Poi passiamo alle polpette. Ragazzi, peccato che non abbiamo il pane per fare la scarpezza, ma vabbè. Sì, secondo me sarà spaziale il sughetto. L'ho visto prima, ma anche le verdure secondo me sono davvero buone. Eh, prima assaggio la carne. E' molto senera la carne, si sente tutto, quindi il macinato, anche la verdurina che ho messo in mezzo. Cioè, si sente che è fatto in casa, ragazzi. E' buonissimo. Madame intera. Super, super saporita. Per gli amanti delle spezie vi deludo perché non è così speziato, lo può mangiare a chiunque. Purtroppo non so dirvi che ci sia in mezzo, però è molto morbida. Il sugo è strepitoso, molto, insomma, si sente il pomodoro. E' buono, mi piace. Con le polpette ha un suo perché mettere queste verdure. In ogni caso sono accotte al vapore, non è niente di che, però ci stanno comunque. Io apprezzo che non sia troppo speziata, elaborata, queste cose, però davvero spaziale, ragazzi, cioè. Poi per questo prezzo. Esatto. Tipo 5 euro. Più che altro per il prezzo. E poi qui fanno proprio da mangiare tipico. Cioè, se volete proprio cosa di tipico, qui c'è perché c'è la paella, c'erano anche altri piatti che non ho visto, però erano tipo fatti a modo di paella, però tipo con gli spaghetti. Secondo me ne vale la pena. Se siete qui a Valencia, perché no? Ci proviamo a finirla. Purtroppo non abbiamo coltelli. Oh mio Dio, guardate come si strappa. Cioè, guardate il sughino che c'è. Questo sarà molto speziato, secondo me. No, secondo me no. Carne tenera, davvero. Ce l'avete visto, tenerissima. Solo che c'è questo gusto strano. Non lo so, una spezia, un liquido, hanno fatto un qualcosa che non ho mai assaggiato. Sì, non è saporitissima come aspettavo, quindi meglio perché a me non piace troppo saporita, non è neanche troppo salata. No, carne è buonissima, generissima. Adesso andiamo a scoprire cosa è. Spaziale. Almeno io non l'ho mai sentito poi, non so se è buono. Se riuscire a mangiare della carne così, con una forchetta di plastica così, vuol dire che la carne deve essere davvero morbida. È il sapore di barbecue. No. Ve l'ho già sentito, cioè è normale, la carne stracotta è così, però è davvero buona. La crosta intorno, molto molto saporita, molto buona. Non saporita da togliere il gusto, ma saporita da proprio arricchire il tutto e amalgamare il tutto. Niente, comunque anche il sughetto che c'è di base, ragazzi, è strepitoso. Buonissimo. La carne, come ha detto anche lei, si scioglie in bocca. Si praticamente si stacca dall'osso da solo, non devi neanche farci tanta forza perché riusciamo a mangiarlo con le porchette, quindi figuratevi. In Italia ti fanno pagare 15 euro solo questo pezzo di carne. Devo dire invece che le patate sono un pochino insipide, cioè non di poco. Eh, loro praticamente quando scegli una carne è molto bello perché si dicono vuoi le verdure, il riso o le patate e quindi potremmo sempre scegliere quello che volevamo. Diciamo che di solito te lo fanno pagare a parte. Eh, esatto. Qui invece... Dimmi tu chiederlo. Invece questo è quasi obbligatorio, cioè o vuoi le patate, le verdure o il riso. Quindi comunque, cioè non è che è obbligatorio, alla fine ti fa piacere averle, quindi... Sì, sì. Quindi buono. Come chiusura del video vorrei dire che per me questo pranzo è stato davvero spettacolare, ottimo, per quello che abbiamo pagato soprattutto. e per la qualità del cibo, quindi per me è davvero un posto azzeccatissimo. Per me è stato il miglior pranzo qui a Valencia. Cioè proprio io abbiamo mangiato tipico secondo me, qualità top, anche prezzo giusto, ma il prezzo vabbè, anche se era più costoso, però proprio la qualità è stata la cosa più fondamentale secondo me. Soprattutto quando si parla di carne. Se siete qua di zona, perché non provarlo? Alla prossima. Grazie. 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 Grazie.